Scotland Yard ha diffuso la fotografia di Khalid Massoud. Questo è il nome dopo la conversione all'Islam dell'attentatore di Londra. All'anagrafe Adrian Russell Helms era nato nel Kent 52 anni fa. La sua biografia tuttavia non è chiara. Ex insegnante d'inglese, secondo alcuni media britannici, era padre di tre figli. Aveva precedenti penali per reati comuni ed era noto ai servizi segreti perché è finito in indagini sull'estremismo anche se come figura marginale. L'uomo è stato ucciso dopo aver falciato i passanti con un SUV sul Westminster Bridge e ha coltellato a morte un agente. Nell'attentato, oltre al terrorista e al poliziotto, sono morte altre tre persone. Il principe Carlo ha fatto una visita all'ospedale in cui sono ricoverate 31 persone, due in condizioni critiche. L'inchiesta intanto prosegue. Scotland Yard ha annunciato che sono stati fatti altri due arresti significativi. Sono nove le persone al momento in custodia. Una cerimonia, quelli dei religiosi cristiani, ebrei e musulmani insieme per ricordare le vittime dell'attacco di Londra, si è svolta al North Gate dell'abbazia di Westminster.